I risultati della settima giornata del campionato di eccellenza Sicilia, Gironea. Al Balcamo, Centro Universitario Sportivo Palermo 1-0, Città di Sant'Agata, Castellammare 2-1, Licata, Marsala 3-1, Mazzara, Caccamo 2-0, Mussomeli, Dattilo Noir 2-1, Parmoval, Geraci 1-0, giocata sabato, Partinica Odace e Profavara 1-1, giocata sabato, Castelbuono, Canicattì 1-4. La classifica, Mazzara, Canicattì e Licata 18 punti, Città di Sant'Agata 17, Dattilo Noir 14, Geraci, Mussomeli e Al Balcamo 10, Castellammare 9, Parmoval 8, Profavara 7, Marsala e Partinica Odace 5, Centro Universitario Sportivo Palermo e Caccamo 3, Castelbuono 1 punto. Gli incontri del prossimo turno, Centro Universitario Sportivo Palermo Castelbuono, Canicattì, Partinica Odace, Castellammare Licata, Dattilo Noir Parmonval, Geraci Città di Sant'Agata, Caccamo Al Balcamo, Profavara Mussomeli, Marsala Mazzara.